Romagna Sport primo dal 2001 la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare proprio come i professionisti i primi a pubblicare la carriera degli atleti i primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport Romagna Sport il primo sito sportivo in Romagna in tutto buonasera buonasera a tutti voi bentrovati a questa nuova puntata di fischio finale come sempre qui su Teleromagna come sempre per occuparci di tutte le partite più importanti del weekend calcistico insomma la formula è quella solita classica e consolidata i risultati le classifiche e poi i tanti video come sempre a nostra disposizione e allora subito per entrare nel vivo della nostra trasmissione andiamo a conoscere chi ci accompagnerà nel corso appunto di questa nostra diretta innanzitutto do il benvenuto anzi per meglio dire il ben ritrovato ad Alessandro Zauli ciao mister buonasera a tutti grazie per l'invito e accanto a lui c'è Luca Leoni ciao Luca benvenuto ciao Andrea grazie buonasera a te buonasera a tutti eh sì proprio con Luca noi partiamo in questo nostro viaggio partiamo subito a vedere il punto generale dei risultati e delle classifiche innanzitutto Luca con la serie A come sempre con ovviamente dei pezzi mancanti Bologna Milan 1 a 1 Cremonese Empoli 1 a 0 Inter Monza 0 a 1 Lecce Sampdoria 1 a 1 Napoli Bielas Verona 0 a 0 Spezia Lazio 0 a 3 Torino Salernitana 1 a 1 Sassuolo Juventus iniziata all'ora 18 questa sera Roma Udinese alle 20.45 mentre domani chiude Fiorentina Atalanta sempre alle 20.45 e dunque questo un turno di transizione purissima perché non solo in Italia praticamente in tutta Europa le squadre che sono in corsa in Champions eccezione fatta per il Manchester City hanno un po' tutte tirato il fiato hanno un po' tutte rallentato il passo sicuramente lo ha fatto il Napoli che pure nel match casalingo pareggiato contro il Verona ha ritrovato Osimene sarà l'attaccante il centravanti titolare un'arma chiave per i partenopei in vista proprio del retour match di Champions contro il Milan e poi ancora la stessa lo stesso Milan proprio che a Bologna pur schierando la squadra B ha ottenuto un pareggio che lascia tutto in sospeso nella corsa per arrivare alla prossima Champions l'Inter che invece in campionato mostra sempre il suo volto peggiore undicesima sconfitta per i nero azzurri sulle 30 partite disputate una sorta di record eppure la corsa per la Champions continua a coinvolgerli in prima persona proprio in virtù anche dei risultati negativi la Lazio è l'unica squadra fuori dall'Europa che sta beneficiando un po' di tutta questa situazione altra vittoria nell'anticipo di la Spezia seppur quest'oggi la notizia brutta dell'incidente automobilistico ha avuto un impatto nel traffico capitolino da Ciro Immobile che ha riportato alcune conseguenze da valutare quanto incideranno per la possibile ripresa delle attività agonistiche per il centravanti della nazionale e poi come detto la Juventus è in campo in questo preciso istante o per meglio dire ha appena ripreso il secondo tempo bloccata sullo 0 a 0 da Sassuolo insomma tante cose di cui parlare come detto nei vari campionati andiamo avanti andiamo a vedere Luca anche la serie B 1 a 0 Bari Como 2 a 2 Benevento Regina 1 a 1 Cagliari Frosinone 0 a 0 Cosenza Cittadella 1 a 1 Genoa Perugia 2 a 0 Modena Parma 1 a 1 Spalla Brescia 2 a 2 Ternana Pisa 2 a 1 Venezia Palermo 3 a 2 rallenta anche in questo campionato la lanciatissima capolista parliamo del Frosinone bloccato sullo 0 a 0 dal Cagliari e il Genoa che pure lamentava sicuramente un grosso distacco dalla primissima posizione prima del tonificante arrivo di Alberto Gilardino ora invece il Genoa è a meno 4 dai Ciociari ormai vede addirittura la prospettiva dell'aggancio comunque sia di un ritorno immediato in serie A ricordiamo che le prime due si qualificano direttamente per la massima serie perde quota ancora il Sutirol altra sconfitta per la squadra di Bisoli pari in rimonta al 95esimo per la terza in classifica il Bari che stava soccombendo contro il Como e invece aguanta un 2 a 2 fondamentale appunto per mantenere salda la terza posizione e poi il verdetto che ci si aspettava arrivato però con una giornata di anticipo siamo nel campionato di serie C girone B la reggiana è aritmeticamente promossa in serie B Luca Ancona Rimini 3 a 0 Aquila Montevarchi Alessandria 1 a 2 Carrarese Lucchese 2 a 1 Cesena Vispesaro 2 a 0 Fermana Ponte d'Era 0 4 Fiorenzuola Siena 1 a 1 Gubbio Torres 2 a 2 in Molese San Donato Tavarnelle 3 a 1 Olbia Rezzana 1 a 2 Virtus Entella Re Canatese 1 a 1 il verdetto è questo la reggiana che approfitta del improvviso calo di prestazioni dell'Entella e scappa via prende i quattro punti necessari per festeggiare grazie alla vittoria di Olbia firmata dal gol di Cauts reggiana promossa come detto in serie B ma Cesena che si riappropria anche della seconda posizione in virtù degli scontri diretti contro l'Entella come detto agganciata a quota 76 e lo ricordiamo seconda posizione importantissima per sbucare nella seconda fase nazionale dei playoff insomma per saltare tutti i gradini possibili ed essere dunque schierati nel momento decisivo per lottare per la serie B e poi ancora i Rimini che ottiene l'ennesima sconfitta l'ennesima brutta prestazione di questo girone di ritorno da dimenticare ma dietro non riescono ad accorciare basterà un pari contro l'Aquila Montevarchi già retrocesso nell'ultima giornata per ottenere la qualificazione ai playoff da stabilire con quale posizione eventualmente Aquila Montevarchi che è retrocessa come detto e questa è un'ottima notizia per l'imolese che non può più retrocedere direttamente parteciperà ai play out imolese che farà visita proprio alla reggiana nella speranza che abbia la pancia piena nell'ultimo turno in programma domenica prossima e poi la serie D quest'oggi il grande derby della Morgagni tra Forlì e Ravenna ma non solo sentiamo Il derby tra Forlì e Ravenna combattutissimo ricchissimo di azioni deciso dal gol di Abe Ravenna che con questo successo scavalca proprio il Forlì più due ora per i giallorossi 55 per la squadra bizantina 53 per il Forlì ma a scavalcare i biancorossi ci ha pensato anche il Carpi ormai rilanciatissimo 2 a 0 sulla crema questo per quanto riguarda la corsa per i playoff la corsa per il primo posto ormai rivede la Gianerminio nel ruolo di strafavorita tre giornate dal termine con il successo di oggi 2 a 0 sul fanfulla e con l'impresa ennesima compiuta dalla San Maurese che blocca la Pistoiese e garantisce altre due lunghezze di vantaggio ora 4 dunque per la squadra lombarda si allontana però la prospettiva playoff sia per la stessa San Maurese ma anche per lo United Riccione agganciato dai giallorossi e oggi battuto dal Prato scopriamo invece adesso i risultati del campionato di eccellenze Castenazzo San Paimola 3 a 1 Cattolica Russi 2 a 3 classe Savignanese 0 a 0 De Luca Grama Medicina Fossatone 0 a 1 Granamica Diegaro 1 a 1 Masi Torello Comarchiese 1 a 0 Sant'Agostino Cavaronco 1 a 0 Tropical Coriano Pietracuta 2 a 1 Valsanterno Ventivoglio 0 a 6 Victor San Marino Progresso 1 a 0 E dunque non fa sconti la promossa in questo caso no con non con la pancia piena il Victor San Marino che batte proprio il progresso in quello che poteva essere il gran finale del campionato ma così non è stato perché i titani hanno festeggiato prima della sosta di Pasqua la promozione in serie D un risultato pesante nella corsa per il secondo posto seppur ha ormai due giornate dal termine vede favoritissimo il progresso che ora ha il Russi come grande avversaria Russi che passa in casa del Cattolica condannandolo così alla retrocessione e prende tre punti che invece tengono vivo una fiammella di speranza 5 i punti da recuperare proprio sul progresso questi i verdetti per il momento di un campionato che poi dovrà decretare anche chi farà lo spareggio play out E poi ancora in promozione Girone D anche qui conosciamo il nome della promossa Massa Lombarda più 10 nonostante quest'oggi il pari comunque in rimonta ottenuto in casa della Portuense più 10 che è confermato sull'Atletico Castenaso a sua volta costretto al pareggio in casa dell'Areno più 10 che però diventa anche sull'Osteria Grande altra squadra che cercheremo di mostrarvi questa sera Corsara contro il Faenza in un match che vale come detto l'aggancio alla seconda posizione per i bolognesi in una corsa ai play off che invece ha visto la sconfitta del Solarolo che tiene aperte le possibilità importanti per quanto riguarda le altre squadre che pure però non stanno correndo sicuramente velocissime parlo della San Pietro Invincoli che pareggia quest'oggi ma il Mesola che ha battuto il Solarolo ora ci crede Andiamo nel girone e c'è sempre l'appassionante lotta fra Gambettola e San Pierano Bacchia 2M 0-1, Bellaria San Termete 4-1, Forlimpopoli Torconca 2-0, Frattaterme Cervia 4-2, Gambettola Meldola 2-0, Granata San Pierana 2-2, Verucchio Misano 0-2, Vis Navafeltria Stella 3-0 Eh sì, una giornata campale perché è vero che c'è lo scontro diretto all'ultima giornata fra queste due formazioni Gambettola e San Pierana ma se venisse confermato questo distacco al termine della prossima giornata della 29esima non ci sarebbe bisogno di questo scontro diretto più 4 attualmente vantato dalla squadra di Marco Bernacci anche oggi vittoriosa 2-0 contro il Meldola penultimo in classifica la San Pierana che invece giocava in casa dell'ultima in classifica il Granata che ha assolutamente onorato l'impegno bloccando i bianconeri sul due pari, questo il duello al vertice, il duello per quello che sarà l'unico confronto per i play-off vede ormai due squadre staccate rispetto all'arresto della compagnia, visto Nova Feltria e Forlimpopoli forse non ne avevano bisogno ma con le vittorie di oggi hanno decretato quello che sarà il loro abbinamento della post-season e poi la prima categoria il girone G Ed è pesante la caduta della pianta in casa del Carpena perché c'è il sorpasso quasi come se si fosse nascosta sotto le foglie il Fontanelice scavalca proprio la pianta a quota 59 punti, 58 per la pianta come detto ma anche per il Civitella grandissima rimonta che stanno operando i forlivesi col 4-3 rifilato al San Rocco quest'oggi in corsa assolutamente a due turni al termine c'è anche il San Vittore che passa 3-1 con la Virtus Faenza il Savio invece quest'oggi perde una chance fondamentale per arrivare addirittura al vertice della classifica sconfitta casalinga col bagnacavallo e dalla vertice si passa all'ultima posizione dei play-off davvero un campionato incredibile poteva festeggiare quest'oggi invece una squadra nel girone H Caila-Bella Riva ma come ci dirà Luca così non è stato Accademia Marignanese Asar 0-0 Bagno di Romagna-Rumagna 1-0 Delfini Rimini-Superga 2-3 Mondaino-Bella Riva 1-0 Morozzano-Gatteo 8-0 Riccione 1926 Sala 1-2 San Lorenzo Perticara 3-2 Villa Marina Roncofreddo 2-1 Una turno folle come è stato lo svolgimento di questo intero campionato anche nella girone H come detto il Bella Riva aveva i punti di vantaggio necessari per festeggiare l'eventuale promozione quest'oggi in caso di successo ma non aveva fatto conti con il Mondaino che batte proprio il Bella Riva 1-0 e riapre il campionato a favore del incredibile Morciano 8-0 quest'oggi alla squadra che occupava la seconda posizione il Gatteo dunque un campionato che a due giornate dal termine vede un duello soprattutto al momento fra Bella Riva e Morciano mentre invece il Riccione 1926 cade con la sala e vede riavvicinarsi in zona playoff il Superga 3-2 in casa dei Delfini Insomma come detto c'è davvero tanto di cui occuparci lo faremo dopo la sosta pubblicitaria brevissima per incominciare invece a focalizzarsi sul Cesena ieri tornato in seconda posizione Regia In cucina come per l'amore gli abbinamenti fanno la differenza per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria all'Osteria e la Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente condito dal più suggestivo dei panorami le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce con la qualità della cucina fatta in casa della Tramonteria invece adoro la pizza l'unica che mette d'accordo tutti la Capannina e la Tramonteria l'abbinamento perfetto in tavola prenota anche tu allo 0547 66 61 01 te ne innamorerai Eh sì, dunque il Cesena che come detto ha sfruttato al massimo le possibilità che aveva a propria disposizione nella gara di ieri contro la Vispesaro per ottenere una vittoria importante diventata ancora più grande grazie al pareggio fra Entella e Re Canatese match che è terminato sull'1 a 1 match che ha aperto la festa della Reggiana ma intanto il Cesena torna secondo con Luca Leoni sentiamo la cronaca del match dell'Oro Gelstad 6 erano stati gol rifilati al San Donato Tavarnelle nel turno di Pasqua 6 sono anche i punti che il Cesena vuole ottenere per poter agguantare quantomeno il secondo posto a partire dalla sfida contro la Vispesaro l'ultima davanti al proprio pubblico del Manuzzi nella regular season per questa sfida mister Toscano sceglie Cegliento per sostituire l'indisponibile Prestia conferma invece il lanciatissimo Bumbu autore di una doppietta in quella di Montevarchi e il consolidato tandem composto da Corazza e Stime Spendi andiamo dunque con le immagini siamo alla decimo minuto un buon recupero palla proprio di Jonathan Bumbu che scarica al destro e colpisce un clamoroso palo neanche a 10 minuti sull'orologio le lancette non hanno ancora toccato il decimo minuto e Bumbu scalda subito il piede palo centrato con l'estremo difensore Farroni battuto ancora i bianconeri in avanti al quattordicesimo con la conclusione questa volta di Mustacchio dai 30 metri che esce sul fondo sempre il cavalluzzo propositivo nella prima parte di gioco al diciassettesimo la punizione di Adamo sorvola di poco la traversa ma è un Cesena che spinge che è entrato con il piglio giusto in questa sfida siamo al minuto 22 sempre dagli sviluppi di palla inattiva sulla sinistra la sventagliata di Mustacchio il pallone che arriva a Silvestri che ormai ci ha preso gusto quarto gol in campionato terzo con la maglia del Cesena per Silvestri un'autentica acrobazia balistica quella del difensore che si trasforma anche in attaccante la palla arriva davvero rapace la schiaccia al modo giusto c'è una deviazione della difesa della visse da Pesaro ma poco importa il Cesena è in vantaggio al minuto 22 la risposta degli ospiti arriva qualche minuto più tardi siamo alla trentesima con questa conclusione da fuori ma passando con le immagini alla ripresa la sventagliata di Brambilla cercare Corazza che si libera bene dal difensore però sbaglia la conclusione incrociata di poco fuori misura ancora il Cesena al cinquantesimo sempre con il tandem composto da Brambilla e in questo caso Silvestri la schiacciata di testa che esce sulla fondo mentre alla settantasettesima arriva anche un'espulsione diretta per questo brutto fallo di Sinclair rosso diretto per questo intervento in ritardo come possiamo appunto vedere dalle immagini un fallo shock quello di Sinclair succediento cerca soltanto la gamba il rosso è inevitabile per il giocatore del Vispesaro negli ultimi minuti di gioco ancora il Cesena che cerca e trova il raddoppio una buona triangolazione il pallone che arriva a Cristian Spendi diagonale rasoiato preciso sul secondo palo esplode di gioia perché è il suo primo gol in campionato di fronte al proprio pubblico di fronte alla propria famiglia e dunque un Cesena che riesce a trovare il raddoppio con il gemello che si era messo in luce anche nell'ultima uscita ricordiamo l'assist nella partita contro l'Ancona un Cesena dunque che riesce a gestire al meglio la sfida del Manuzzi l'ultima di fronte al proprio pubblico batte 2-0 la Vispesaro e agguanta il secondo posto e questo Alessandro è davvero un grande segnale perché la squadra bianconera ha avuto sicuramente dei momenti critici in questa rincorsa alla Reggiana poi diventata rincorsa a Lentella non ha però staccato la spina e si sta preparando forse nel migliore dei modi con i risultati e le prestazioni in vista dei play-off Sì, allora innanzitutto mantenere la seconda piazza sarebbe fondamentale perché arrivare secondi adesso io ho visto sì, l'Alessandria teoricamente può ancora salvarsi direttamente però visto che la Torres mi sembra gioca in casa con la Fermana io credo che le speranze dell'Alessandria forse siano più teoriche però credo che il Cesena debba innanzitutto assolutamente arrivare seconda perché comunque è un vantaggio notevole certo e quindi per quello che riguarda il primo posto io credo che alla fine abbia vinto la squadra che doveva vincere però sicuramente la Reggiana dopo che ha vinto il Cesena ha avuto anche lei dei momenti insomma a Rimini ricordiamo che ha pareggiato per miracolo ecco perdeva 2-0 mi sembra fino a il 93 la gara del destino come l'anno scorso lo fu il famoso Modena imolese col gol di Gagno in questo caso questo pareggio che sembrava aver riaperto il campionato in realtà fu un gran risultato lo chiedo proprio a Luca ne avevamo parlato all'epoca questo è un pareggio della Reggiana che sostanzialmente qualifica i Granata per quello che sono la squadra migliore del campionato lì è riuscita a trovare proprio l'ultimo strappo perché era una partita persa un ottimo Rimi tra l'altro ricordo e invece la ripresa negli ultimi secondi un'azione incredibile tra l'altro due bellissimi gol e da lì in poi è andata fino in fondo aumentano i ramarchi per il Cesena perché come diceva il mister la Rezzana ha avuto il momento di inflessione e il Cesena non ne ha approfittato perché ha fatto quel filotto di pareggi che si commentano da solo ricordo anche quello di Gubbio proprio preso in extremis e quindi i ramarchi ci sono ora l'obiettivo è consolidare la seconda posizione assolutamente dunque da resettare anche quest'ultima prestazione da concentrarsi sul mantenimento di questa seconda piazza mister Toscano sentiamo come ha commentato la vittoria del Cesena 2 a 0 con la vispesa sono partite che affronti gli avversari che hanno fame di punti loro sapevamo che si erano allenati a Pasqua a Pasquetta sono andati in ritiro ieri per preparare bene la partita che per loro era una partita vitale noi potevamo commettere l'errore magari di non credere a quel primo posto che abbiamo inseguito fino ad oggi e magari affrontare la partita in modo non aggressivo e intenso come l'abbiamo fatto invece il secondo tempo è piaciuto che nei momenti di difficoltà rispetto alle altre partite si è riscato di meno e questa è una caratteristica che ti deve accompagnare perché ci sono sempre gli avversari ci sono anche i momenti delle partite dove non sei in perfetta forma in condizioni magari qualcuno come Brambilla come Adamo gli ultimi dieci minuti un quarto d'ora non ne avevano più e quindi potresti anche avere dei momenti di sofferenza tu devi essere bravo anche a tenere botta a non rischiare niente fare il secondo gol e chiudere le partite stare sul pezzo per 95 minuti non staccare mai la spina come era successo con i 20 minuti anche a San Donato siamo concentrati sulla partita di Alessandra perché non vogliamo il secondo posto perché ti cambia tanto perché devi dare continuità e devi arrivare ai playoff di slancio con convinzione con consapevolezza con fiducia per questo siamo già concentrati nella partita di Alessandra noi invece nella seconda parte della nostra trasmissione ci concentreremo anche sulle altre partite delle Romagnole la brutta sconfitta lo possiamo dire del Rimini in casa dell'Ancona e invece la importantissima vittoria dell'Imodese ma poi andremo a fare il punto anche sugli altri campionati non cambiate canale dunque restate con noi Ideal System specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali impiantistica strutture metalliche porte e piani di carico tamponamenti e coperture un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore le più innovative tecnologie al servizio del cliente con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo Ideal System con sede a Cesena opera su tutto il territorio nazionale e all'estero Ideal System soluzioni ideali per sistemi industriali la commerciale agricola di Billy Giovanni SPA punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole industriali e per il giardineggio concessionaria New Holland rivenditore dei più importanti marchi la nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento automezzi per trasporti anche eccezionali tecnici altamente specializzati fornitissimo magazzino di ricambi originali disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate controllate e garantite un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica fiscale assicurativa e finanziaria la commerciale agricola di Billy Giovanni SPA sede a fornivi a Dragoni 114 filiali Rimini Fano www.lacomercialeagricola.com qualità affidabilità convenienza velocità tutto in una parola si dice FAM Batterie Meddola FAM Batterie azienda leader nel settore da 45 anni soddisfa tutte le esigenze di energia alla FAM puoi trovare batterie per auto moto veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato incluso il servizio di installazione alla vanguardia anche per batterie a litio se vuoi andare sul sicuro scegli FAM Batterie perché l'energia al giusto momento fa la differenza consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza e allora siamo di nuovo collegati con fischio finale intanto vediamo anche un aggiornamento sul match al MAPEI Stadium con il vantaggio del Sassuolo firmato da un ex bianconero parliamo di Gregoire De Frel 1-0 ai danni della Juventus e match che però ancora ha tanto da dire vi daremo ulteriormente ulteriori informazioni su questa gara e invece ha avuto ben poco da riferirci la sfida del Delconero per quanto riguarda la Serie C come dicevamo una brutta prestazione del Rimini ormai irriconoscibile rispetto all'eccellente girone d'andata disputato dalla squadra di Mister Gaburro match terminato senza troppi patemi per l'Ancona con un 3-0 sentiamo tre punti da difendere per il Rimini quelli che permettevano ai biancorossi di rimanere a occupare l'ultima posizione utile per agganciarsi ai playoff un traguardo ancora alla portata per la squadra di Mister Gaburro che pure però non era riuscita a vincere nessuna delle ultime sette partite disputate e anche ad Ancona il match inizia con delle difficoltà evidenti al decimo il diagonale di Simonetti che si spegne a lato quattro minuti più tardi una difesa disposta a malissimi quella del Rimini spagnoli fa così filtrare il pallone per di massimo a tu per tu con Zaccagno non sbaglia 1-0 ma come detto difesa schierata davvero male a centrocampo non una linea compatta ma giocatori che sembravano un po' a spasso e praterie immense non saranno le uniche che l'Ancona sfrutterà in questo match che ormai possono assolutamente prendere in mano i giocatori della squadra ora allenata da Donadel proprio in settimana il cambio sulla panchina dell'Ancona con l'esonero di Collabitto il match che vede un'occasione ancora per Spagnoli quella importante sprecata da Santini la risposta del portiere e poi alla 36esimo altra opportunità gigantesca Mezzoni sbaglia la chance del 2-0 meritava probabilmente il gol questa incredibile rovesciata di Simonetti sarebbe stata forse l'azione del campionato una rovesciata di rara bellezza per la coordinazione e per potenza la vediamo addirittura una solta di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè a cercare il pallone in rovesciata non ce la fa l'Ancona a raddoppiare i conti né in quella circostanza né alla 63esimo ancora Mezzoni il diagonale sul fondo e poi Rimini troppo sbilanciato lascia le praterie di cui facevamo menzione per l'Ancona che si scatena alla settantesimo Spagnoli davanti a Zaccagno lo batte con il cucchiaio 2 a 0 ed è il match che va sostanzialmente già in archivio anche qua una disposizione completamente sbagliata non viene seguito il movimento del giocatore in maglia numero 9 che non trovava il gol da parecchie giornate ultimi 20 minuti in cui il Rimini esce di scena e incassa anche il Tris il migliore in campo uno dei migliori in campo Mezzoni questa volta mette il cross per Martina altro buco della difesa riminese a tu per tu col portiere anche lui segna anche lui può così scatenare tutta la propria gioia un Rimini come detto irriconoscibile rispetto alla squadra di cui abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione che aveva messo ormai alla frutta e alla berlina la reggiana non fa sicuramente altrettanto con l'Ancona incassando una sconfitta con il punteggio di 3 a 0 e mister Zhauli insomma abbiamo parlato dell'ottimo spirito visto per quanto riguarda la partita della Cesena in questo caso l'avversario era alla ricerca di punti aveva appena cambiato allenatore però il Rimini si è sostanzialmente consegnato mani e piedi legati alla superiorità evidenziata dall'Ancona si ho visto dei gol brutti da prendere proprio brutti nessuno escluso si non lo so perché a volte alle stagioni fai un gran girone d'andata poi magari ti siedi e poi quando devi riprendere perché oggettivamente io credo che nessuno a Rimini potesse chiedere di vincere il campionato insomma però sicuramente il girone di ritorno non è stato positivo per i soldi dati statistici al girone di andata e alla gara con l'Ancona cioè il 10 dicembre risale l'ultima vittoria casalinga del Rimini dopo sono arrivati solo sconfitti o pareggi ad eccezione di due vittorie e qui mi rivolgo anche a Luca questo è un rendimento ormai evidente per quanto riguarda il Rimini si sta già parlando anche del futuro in casa biancorossa con possibili cambi di scenario per la prossima stagione è vero che il Rimini ha ottime chance di agganciarsi ai playoff magari di ritrovare all'improvviso tutta la propria brillantezza però insomma le ultime prestazioni sono state sconfortanti il tempo è poco perché manca solo una partita è un Rimini che è calato a parte dal punto di vista dei risultati che sono sotto l'occhio di tutti anche dello spirito perché è sempre stata una squadra battagliera soprattutto nella prima parte di campionato che ha regalato grande emozione i suoi tifosi e come diceva appunto mister Zauli poco fa i gol che ha preso ad Ancona sono gol gravi di lettura difensive totalmente errate anche il tris anzi il secondo gol quello di Spagnoli viene chiamato un fuorigioco dove non poteva esserci denotano un po' di non crepe magari da un punto di vista dello spogliatoio ma dell'organizzazione di gioco deve essere bravo Gaburro se ne avrà l'occasione a questo punto di ricompattare l'ambiente e poi a fine stagione si faranno le dovute valutazioni intanto c'è chi tanto per non cambiare vuole conquistare la salvezza proprio prima che la stagione finisca e nella solita modalità ormai consuetudinaria delle ultime stagioni parliamo degli Imolese parliamo della squadra Rosso Blu di Mauro Antonioli che si è guadagnata l'accesso ai play out con la bella vittoria il 3 a 1 rifilato ai danni del San Donato Tavarnelle sentiamo un filotto di 5 risultati utili tra febbraio e marzo e poi due sconfitte e un pari nelle ultime uscite si è inceppato qualcosa nel Imolese che ospita il San Donato nella penultima di campionato una sfida dalle tinte di gara a salvezza con i Chianti Zanni che staccano di sole a due lunghezzi rosso-blu e sono reduci da 5 K nelle ultime 6 uscite mister Antonioli sceglie così l'attacco pesante con De Feo Zanni e Tulli a supporto di Simeri passiamo dunque con gli highlights siamo alla fine della prima frazione al 42esimo l'incursione di Faggia atterrato da Siniega per l'arbitro non ci sono dubbi era stato munito il difensore del San Donato e strae il secondo giallo ed espulsione dunque San Donato che rimane con l'uomo in meno già praticamente a metà partita alla fine della prima frazione di gioco rivediamo l'highlight rivediamo il replay non ci sono dubbi il direttore di gara e anche il guardaline ben appostati secondo giallo e rosso dunque per Siniega dopo il fallo su Faggi un imolese che così ha anche una grande chance siamo negli ultimi minuti di recupero del primo tempo questa con appunto la conclusione di Faggi sporcato da Simeri a pochi passi dal portiere mentre nella ripresa al 64esimo ci prova subito l'imolese e deve appunto essere chiamato in causa ancora una volta il portiere ospite mentre al 72esimo la chance arriva dalla parte opposta c'è un calcio di rigore per il San Donato rivediamo il replay dal calcio d'angolo atterrato appunto il difensore del San Donato per l'arbitro anche in questo caso pochi dubbi dal dischetto segna il numero 10 il numero 23 scusate russo che sigla il decimo gol in campionato del San Donato grande gioia dunque per una squadra il San Donato che in 10 riesce a trovare un vantaggio totalmente insperato che dura però una manciata di minuti infatti siamo al 74esimo pareggia limolese pareggia con Faggi secondo gol in maglia imolese per Faggi sempre da pallinativa da calcio d'angolo incornata sporcata deviazione vincente quella di Faggi che esulta sotto i propri tifosi mentre al 79esimo arriva il gol del vantaggio e chi poteva segnarlo se non Simeri settima marcatura per Simeri che esulta per un gol che pesa come un maccigno ottima la palla inserita da Mamona per Aghimyang e poi il pallone soltanto da appoggiare in rete quello per Simeri ma non è finita qui perché siamo praticamente al 90esimo l'incursione di Faggi che ci ha preso gusto un bolide straordinario per chiudere una partita condita da una doppietta terzo a rete stagionale per lui grandissima conclusione per una 3-1 che ribalta così un match che si era messo nei binari più difficili per Limorese brava a crederci e a ribaltare un risultato fondamentale e dunque dopo 5 minuti di recupero e questa punizione calciata sopra la traversa arriva il triplice fischio del direttore di gara grande gioia in casa rosso-blu tra Imolese e Sandonato Tavarnelle finisce 3-1 con Alessandro Zauli dicevamo entrare bene in condizione per la post-season vale per il Cesena vale per il Rimini che al momento ha grosse difficoltà Limolese con questa partita sembra aver dato sicuramente un ottimo segnale ai propri tifosi in diciamo perfetta continuità con le ultime stagioni Limolese è una squadra tutti gli anni è sempre così è sempre così è sempre così tra l'altro voglio dire Simeri è un giocatore non dimentichiamoci che due anni fa ha fatto giocare nel Bari ha fatto lo spareggio la finale con la Reggiana per andare in B quindi ecco Fazzi è un ragazzo che io l'anno scorso ho visto nel Mezzolara mi era piaciuto moltissimo perché è un giocatore che in fase di possesso faceva scelte sempre giuste sembrava un vecchio non sembrava un giovane un ragazzo molto interessante molto molto interessante e anche che temperamento l'esultanza la grinta e la qualità del secondo cioè non sembrava un 2003 mi sembra non vorrei dire una cavolata però insomma non sembrava un giovane sembrava un giocatore maturo quindi credo che insomma ha fatto due giorni anche ieri il secondo molto bello vedo quindi è il primo importantissimo che aveva spento subito l'esultanza del San Donato rimettendo in carreggiata Limolese anche perché in quel momento l'Aquila Montevarchi stava vincendo si stava profilando un incredibile sorpasso poi invece del tutto scongiurato insomma una finale al Cardiopalma così come lo sarà in Serie D e tra poco andremo proprio ad occuparci della partita più attesa non solo di giornata ma per i rispettivi tifosi di tutta la stagione il derby tra Forlì e Ravenna e allora ci fermiamo per pochissimi secondi e poi subito a parlare di questo match Gusta la genuinità dei prodotti della Centrale del Latte di Cesena come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano due formaggi D.O.P. prodotti con cura e passione usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine entrambi premiati dalla Guida all'Espresso i formaggi d'Italia premiati anche tu gustando i formaggi D.O.P. della Centrale del Latte di Cesena il buono della tua terra dal 1959 Siamo in tanti ormai entrati nell'ultimo minuto dei tempi del tempo regolamentare sempre Sassuolo avanti sulla Juventus col punteggio di 1 a 0 ma come annunciato in precedenza è il momento adesso di spostarci grazie all'aiuto di Luca Leoni al Morgagni per descrivervi e parlare un po' di quello che è accaduto in un match ricchissimo di occasioni di colpi di scena quello terminato 2 a 1 a favore della Ravenna in casa del Forlì sentiamo allora gli highlights nel servizio entrambe sconfitte nel turno prepasquale entrambi in piena corsa playoff for lì Ravenna infiammano il derby romagnolo che va in scena al Morgagni per la 35esima giornata di Serie D all'andata finì 2 a 1 per i bizantini grazie alla rete in extremis dell'ex Melandri oggi ad un girone di distanza si trovano staccate di una sola lunghezza direzione di gara affidata al signor Bortolussi di Nichelino una gara dunque importante per entrambe le città e che riguarda tutta la Romagna con una Ravenna subito arrembante al quinto minuto di gioco il buona recupero palla quello di Marangon che vede in mezzo Guidone il tiro che viene sporcato da un difensore primo squillo del tandem Guidone Marangon che al settimo su calcio piazzato sblocca il match con un'autentica prodezza altro gol su palio nativa per Marangon ottavo in campionato per lui grande esultanza per una partita che regala subito tante emozioni da una parte e dall'altra siamo infatti alla decimo il Forlì cerca di trovare subito il pareggio il colpo di testa di Cagnini di poco alato pericoloso dunque la squadra bianco-rossa che opera un buon recupero palla fa tutto da solo Caprioni che entra quasi con il pallone in rete decimo gol per Caprioni in campionato riprendono subito la palla subito arrembante la squadra appunto i Galletti che cercano di trovare un vantaggio ma in Ravenna non ci sta dall'altra parte tante emozioni come hai detto da Ambo le compagini la spaccata ci prova in due modi Lisi ma alla seconda blocca il portiere ancora il Forlì invece al ventiduesimo con la buona triangolazione sulla sinistra il pallone messo in mezzo l'incornata effettuata da Eleonori che esce di poco ancora invece il Ravenna poco più tardi siamo infatti al ventiquattresimo la conclusione di Capecce sorvola la traversa Forlì che al venticinquesimo ancora un'ottima chance sempre con Caprioni questa volta è impreciso il numero 7 dei Galletti che poco più tardi siamo infatti al ventottesimo ci riprova sempre dalla destra questa volta chiuso da un ottimo intervento difensivo di Milani che salva letteralmente i suoi al trentesimo Follì invece dell'estremo difensore con il pallone che viene recuperato da Spinosa rischia infatti Ravaioli in questo disimpegno e chiede scusa ai compagni siamo sempre sulla finire della prima frazione ancora il Ravenna questa volta con Lisi conclusione respinta da Ravaioli in questo caso attento sul tiro di Lisi mentre alla trentesettesimo la chance di Cognini è super parata di Venturini al quarantesimo sventagliata cercare Marangona che difende bene il pallone punta il difensore lo salta ancora Marangona col sinistro brividi dalle parti della difesa del Forlì con Marangona ma brividi anche da quella del Ravenna con colpi da un lato e dall'altro grande primo tempo questo tra le due compagini mentre la ripresa si apre con una espulsione l'espulsione infatti di Fusco che a terra in questo modo ha abbilanzato letteralmente a rete siamo alla quindicesimo dagli sviluppi di punizione ci prova Marangona il tiro che viene respinto poi l'azione prosegue con la conclusione di Abbey che diventa un tiro cross per Taffa la conclusione è alato ancora il Ravenna forte dell'uomo in più siamo al trentesimo il pallone messo in mezzo ci prova Guidone centra una clamorosa traversa da pochi passi con l'incornata arriva anche il gol che decide in realtà l'incontro siamo al trentacinquesimo fa tutto da solo Abbey sulla destra sinistro potente che non lascia scampo al portiere esplode di gioia il Ravenna che con l'uomo in più riesce a trovare un vantaggio che dura in realtà fino alla fine del match non la parità numerica infatti ritornano in dieci contro dieci per l'espulsione proprio di Ami per somma di ammunizione e quella di Mr. Gadda per proteste l'ultima chance del Forlì nei minuti conclusivi ma non c'è più tempo il derby come deve essere infiammato pieno di agonismo e di emozioni finisce 2-1 per il Ravenna sul campo del Morgagni di Forlì e proprio al Morgagni c'era Mr. Zauli abbiamo testimoniato una partita con davvero occasioni infinite da una parte e dall'altra il 2-1 non è probabilmente il risultato che rispecchia quello che è accaduto nel senso che potevano esserci molti più gol ma a tuo parere la vittoria del Ravenna è meritata per quello che si è visto quest'oggi insomma il Forlì forse nel primo tempo ha fatto meglio come gioco Forlì ha sempre il solito problema fa pochi gol Forlì davanti è una squadra un po' leggera diciamo così il Ravenna ha sfruttato la superiorità ha fatto un gran gol a Abbey che secondo me è stato il giallorosso più bravo di tutta l'annata più continuo anche ha fatto diversi gol il calcio del campista quindi sai allora il mio parere esula da questa partita nel senso io mi spiego molto chiaramente sia Ravenna che Forlì hanno necessità anche altri ovviamente ma loro in particolare di trovare una continuità cioè faccio un esempio che cosa ripeto penso che debbano essere fatte più situazioni dove si programma dove non si cambia tutta la squadra a dicembre e dove soprattutto il settore giovanile deve avere una valenza più importante perché non credo sia possibile che a Ravenna o a Forlì continuino a non venire mai fuori dei giocatori perché questo anche numericamente proprio statisticamente è impossibile cioè bisogna avere un programma un progetto bisogna avere delle idee bisogna sapere da dove partire a dove vai perché se no altrimenti arrivi tra i secondi o decimi quindi conta poco se no si fanno dei campionati dove si vivacchia si arriva lì e l'anno dopo si riparte da capo ma credo che alla lunga poi la gente rischia anche di stancarsi di queste cose quindi il mio discorso Andrea esula da questa partita che come hai detto tu poteva finire in qualsiasi modo assolutamente sì davvero un match ricchissimo di occasioni da rete ma anche il discorso che abbiamo appena sostenuto mister Zaulio è quello che facciamo nostro ovvero sia la speranza di dare continuità ai progetti tecnici da una stagione all'altra in maniera tale da poter cogliere i frutti che purtroppo un campionato come quello della serie D che dà sostanzialmente l'accesso ai professionisti solo a chi lo vince dunque anche una fra Gianna Erminio e Pistoiese probabilmente rimarrà scornata da questo finale di campionato e sarà importante però programmare i playoff ma ancora di più in serie D di programmare la prossima stagione chi invece sta ancora lottando per accedere al secondo posto in eccellenza è il Russi che quest'oggi ha rischiato di compromettere una grande prestazione che stava contendo sul campo della Cattolica ma alla fine ha potuto comunque esultare sul 3 a 2 parliamo di eccellenza parliamo di Cattolica Russi come detto terminato con il punteggio di 2 a 3 sentiamo la Cattolica continuava a giocarsi il tutto per tutto anche in questa terz'ultima giornata di eccellenza una condizione che aveva esaltato sin ad ora i giallorossi di Pessina che nelle ultime quattro giornate avevano conquistato la bellezza di 9 punti un bottino però ancora insufficiente visti i larghi distacchi in classifica simile seppur a distanza siderale proprio dalla Cattolica la situazione del Russi la cui corsa per il secondo posto era ormai appesa a un filo e occorreva assolutamente vincere questo match e allora andiamo a vedere come si è sviluppato siamo al terzo minuto con Saporetti conclusione alta per lui dalla parte opposta il Cattolica a sua volta con una bordata effettuata da parte di Coppola sul fondo ma il resto del primo tempo è tutto di marca arancione grande percussione grande tentativo ancora di Gasperoni scatenato quest'oggi come lo è stato dal suo arrivo al Russi è diventato sicuramente uno dei giocatori più incisivi di tutto il campionato ancora il cross sul secondo palo e questa volta è il gol arriva proprio per Gasperoni con il sinistro al volo per battere il portiere Moscatelli per siglare l'uno a zero del Russi diciassettesimo ancora in attacco con questo diagonale cercato da Brigliadori conclusione sul fondo di poco per il classe 2004 e poi ancora Brigliadori a dialogare a cercare l'assist che diventa tale conclusione vincente quella di Garavini al ventesimo davvero venti minuti incredibili quelli che si sono visti al Calbi 0 a 2 il punteggio che non diventa 0 a 3 per la risposta di Moscatelli sulla punizione di Brigliadori nella ripresa deve cambiare marcia Illa Cattolica come detto non basterebbe neanche un pareggio serve assolutamente rimettere in piedi questa partita serve subito un episodio che arriva questa conclusione spettacolare da parte di Coppola all'incrocio dei pali questa volta battuto è il portiere Sarini e cambia l'inerzia del match perché dalla 47esimo al 66esimo c'è ancora il Cattolica in attacco c'è questo pallone scodellato al centro da parte di Cestra ed è docente a pareggiare a dare speranza ancora al Cattolica che non demorde mai che ci vuole credere ancora siamo allora alla 69esimo altra azione altra chance per docente conclusione alta non c'era fuori gioco e dunque questa è un'occasione sprecata che peserà molto nell'economia del match anche perché ritorna in auge il Russi Amaducci conclusione salvata dal quartiere siamo a 76esimo e poi all'84esimo arriva un rigore per il Russi il Mani questo commesso da parte di Cuomo lo viene viene rilevato dal direttore di gara dal dischetto però sbaglia Gasperoni conclusione a lato per lui all'84esimo fallisce una grande chance il numero 10 che però si riscatterà subito all'86esimo un missile spettacolare all'incrocio dei pali conclusione di pura magia per la squadra dei Falchetti che ritorna avanti 3 a 2 davvero un'altra prodezza dopo quella che avevamo descritto in precedenza qui i Russi però sprecone tergiversa troppo col pallone alla fine il salvataggio sulla riga di porta che tiene ancora viva la fiammella di speranza per il Cattolica che lo stesso Moscatelli tiene viva a sua volta sulla punizione parata su Garavini match anche questo davvero da illustrarsi gli occhi per quanto riguarda i Russi però soprattutto vittorioso 3 a 2 in casa del Cattolico e allora siamo entrati in clima di un finale di trasmissione incandescente quello che vedremo nella terza parte noi ora ci fermiamo dando però il finale del match del Mappei Stadium nessuna ulteriore variazione di punteggio perché il Sassuolo ha battuto la Juventus col punteggio di 1 a 0 e allora vi faremo vedere anche l'aggiornamento di classifica nella terza parte della nostra trasmissione per ora ci prendiamo pochi minuti di pubblicità ciao sono il dottor Matteo Lazzarini mi sono laureato in odontoiatria nel 1997 e in tutti questi anni il lavoro del dentista è cambiato molto oggi esistono delle tecnologie che possono rendere le terapie odontoiatriche più sicure e veloci come la TAC con BIM il microscopio il laser e lo scanner per l'impronta senza pasta ma le mie tecnologie preferite restano la scienza e l'onestà e allora non andare all'estero a curare il tuo sorriso scegli i medici italiani scegli noi vieni a trovarci e allora siamo collegati ancora con fischio finale nella terza parte della nostra trasmissione come annunciato è quella in cui chiudiamo un po' i conti per quanto riguarda i risultati e le classifiche a nostra disposizione andiamo proprio a verificare con la regia il campionato di Serie A maschile con il posticipo fra Sassuolo e Juventus la vittoria della Sassuolo contro la Juventus e per quanto riguarda la classifica di questo campionato la salita appunto della Sassuolo ma soprattutto la Juventus che lo ricordiamo mercoledì discuterà dei 15 punti di penalizzazione per quanto riguarda appunto l'autentica zavorra della propria classifica questo l'aggiornamento giustissimo che ci propone la regia per i risultati e la classifica che vede il Sassuolo a quota 40 punti la famosa quota salvezza che è sempre stata definita tale sicuramente molto più bassa quest'anno la Juventus che resta comunque in corsa per le coppe europee penalizzazione o no comunque sia brutta sconfitta quest'oggi andiamo però Luca anche nei campionati femminili c'è la Juventus protagonista per la corsa allo Scudetto che però vede una squadra sicuramente molto avvantaggiata sentiamo sì Andrea nella pull a Scudetto Inter Roma 1-6 Juventus Ferentina 4-3 a riposare è il Milan mentre nella pull salvezza Parma Sampdoria 1-1 Pomigliano Como 1-3 in questo caso a riposare è Sassuolo e allora con la Juventus che fatica ai sud alle proverbiali sette camicie ma vince con la Fiorentina la Roma però da spettacolo in casa dell'Inter resta invariato il vantaggio di 8 punti ormai vicinissimo il traguardo lo striscione del traguardo per le giallorosse 57 Roma 49 Juventus e poi Fiorentina quota 38 Inter e Milan accomunate dalle ultime posizioni per quanto riguarda la pull Scudetto e invece nella pull Salvezza Sassuolo a sua volta tranquillo nonostante quest'oggi abbia riposato a quota 26 Como che sale a 18 con la vittoria oggi in casa della Pomigliano che insegue a 17 scavalcato appunto quest'oggi pari probabilmente utile solo per il Parma anche se casalingo con la Sampdoria Parma attualmente sarebbe agli spareggi per la salvezza con la seconda della serie B con i suoi 14 punti Sampdoria ultima a quota 12 ma allora l'abbiamo nominata sentiamo gli aggiornamenti con Luca Leoni per la serie B femminile con quest'oggi anche il Der a Puglia a Puglia Trani Ravenna Women 0-2 Cesena San Marina Academy 2-1 Chievo Brescia 4-3 Cittadella Lazio 1-1 Napoli Ellas Verona 3-1 Sassari Torres Arezzo 1-3 Tavagnacco Ternana 0-4 Trento Genoa 1-0 Eh sì allora un campionato quello di serie B femminile che prova a riaprire la corsa per il primo posto il pari strappato dal Cittadella Terzo con la Lazio fa il gioco del Napoli femminile 3-1 con il Verona secondo posto riacciuffato dalle partenopee e meno 2 dalla capolista Lazio il derby invece tra poco vedremo le immagini il 2-1 ottenuto dalla Cesena contro la San Marino Academy che consolita dunque la primazia delle bianconere fra le squadre romagnole anche perché quest'oggi comunque sia il San Marino Academy ha incassato la sconfitta dalla Cesena e anche il sorpasso della Ravenna Women 2-0 in casa della Puglia Trani Fanalino di Coda e allora parliamo proprio della sfida fra Cesena femminile e San Marino Academy vedremo anche qui davvero tanti capovolgimenti di fronte e tanti colpi di scena il punteggio finale è questo 2-1 per il Cesena sentiamo match che inizia subito con la possibilità per la San Marino Academy al decimo minuto crossa dalla destra palla che diventa buona per una sponda e il diagonale vincente quello effettuato da parte di Accornero 1-0 ai danni della Cesena femminile che però ottiene un rigore tre minuti più tardi fallo di Princivalli su Secchi dal dischetto c'è il duello fra Zanni e Olivieri parte Zanni grande esecuzione all'incrocio dei palli nonostante però Olivieri si fosse tuffata proprio dalla parte giusta per rispingere il pallone match dunque tornato in perfetta parità ma pronto a vivere ulteriori colpi di scena spostiamoci allora al 32esimo minuto col recupero pallo operato da Porcarelli che dalla tre quarti ha la castagna a propria disposizione e scarica questo gran tiro di poco alto andiamo allora con le immagini due minuti più tardi con l'azione ancora del Cesena con un altro piazzato questo sicuramente meno impattante meno pericoloso effettuato da Zanni 39esimo ottimo primo tempo del Cesena che prova a costruire i presupposti del sorpasso ai danni del San Marino Academy diagonali in questo caso di Secchi facile la presa per Olivieri ma proprio sui titoli di coda del primo tempo altra azione per il Cesena cross deviato cross respinto Porcarelli arriva lei e conclusione vincente di collo pieno per battere questa volta il portiere della San Marino Academy per siglare il gol del 2-1 e aprire così un secondo tempo di gestione per quanto riguarda le bianconere che hanno rischiato molto nella prima parte della match ma poi hanno sicuramente messo le mani sull'incontro ancora in azione il Cesena con Porcarelli la migliore in campo scarica il tiro alto sulla traversa andiamo allora avanti con gli highlights spostandoci al 62esimo minuto la progressione per quanto riguarda il San Marino Academy il pallone in area di rigore diventa ottimo per Papaleo palla che viene respinta dal portiere una chance colossale per la San Marino Academy con davvero la grande risposta di Frigotto mentre invece qui il gioco si ferma c'è un problema per una giocatrice delle Titane che resta a terra il match che sostanzialmente perde alcuni minuti come vediamo il direttore di gara che sostanzialmente decide di far entrare i soccorsi per la giocatrice della San Marino Academy un match che fino a quel momento aveva visto come detto il predominio del Cesena ma sicuramente la San Marino Academy può piangere sul latte versato per la grande chance che ha fallito al 62esimo minuto quando erano saltate tutte le marcature e Mancuso aveva spalancato le porte al pareggio di Papaleo qui ancora la decisione del direttore di gara purtroppo possiamo dirlo highlights montati non da parte nostra per quanto riguarda questo match e questa fase poteva essere sicuramente accorciata per quanto riguarda un intervento comunque sia importante per ristabilire la salute della giocatrice del San Marino Academy che nel finale di gara prova a giocarsi tutto per tutto siamo infatti al novantesimo minuto con Larenza che controlla il pallone sulla tre quarti di gioco cerca il duello poi scarica proprio per Papaleo può cercare un ulteriore cross la numero 11 per questo colpo di testa alto sulla traversa e questo l'ultimo episodio della match fra Cesena e San Marino Academy terminato col punteggio di 2 a 1 per le bianconeri e allora tutto ciò vi dovevamo per quanto riguarda il campionato di serie bifemminile che si avvia alla sua conclusione ma come visto ancora non si sa bene chi lo vincerà fra le tre attualmente pretendenti Lazio Napoli e Cittadella noi però torniamo nel campionato di eccellenza parlando del match un derby vero e proprio quello fra Tropical Coriano e Pietra Cutta che si è aggiudicato la squadra di casa sentiamo allora il commento di Luca Leone punto gold shop il negozio online preferito dagli sportivi www.goldshop.com terza ultima giornata di eccellenza a metà classifica si sfida una Tropical Coriano e Pietra Cutta padroni di casa che arrivano dal Tris rifilato alla Comacchiese ospiti invece reduci dal successo per 2-1 sul Val Santerno subito il Tropical pericoloso siamo alla 14esimo la conclusione di Rossi sulla battuta da calcio dell'angolo esce a lato e ancora il Tropical con Protino tiro anche per lui fuori dallo specchio della porta ma spinge il Tropical Coriano e lo fa al 26esimo la conclusione da fuori straordinaria quella di Scarponi che apre il match apre le marcature di questo derby 1-0 con questa botta da fuori area per il numero 10 della Tropical Coriano Scarponi grande gioia dunque per i padroni di casa che riescono a indirizzare subito il match raddoppiano di lì a poco minuto 33 la conclusione precisa col sinistro di Protino che esulta sotto i propri tifosi grande tiro un colpo da bigliardo letteralmente quello di Protino per il Bis per il 2-0 della Tropical Coriano al 33esimo minuto di gioco dunque la squadra di casa che riesce subito a mettere la partita nei binari a proprio favore andiamo così nella ripresa siamo alla 48esimo risponde il Pietracuta con questo colpo di testa di Zannoni che esce di poco a lato della porta difesa da Bianchini ancora il Tropical questa volta pallone sul secondo palo giropalla buono della squadra di casa e ci prova e inchisi troppo forte si alza sulla traversa la sua conclusione al 53esimo 5 minuti dopo minuto 58 ancora buon giropalla del Tropical Coriano in acrobazia addirittura Carrer ma era in fuorigioco come segnalato dal direttore di gara sempre il Tropical dunque si affaccia dalle parti dell'area difesa dal Pietracuta e qui un'azione insistita tutto da solo ci prova la chance di Carrer prima in acrobazia questa volta in maniera caparbia sfortunato dunque il numero 9 della Tropical con una Pietracuta che risponde con questa azione decisiva questo gol di Tommasini che accorcia le distanze si fa anche male nel siglare appunto la retta che accorcia le distanze c'è stato infatti un contatto con il portiere ma il Tropical non ci sta da punizione schema conclusione col sinistro di Rossi grande parata grande risposta di Davide Fabri dell'estremo difensore della Pietracuta che è l'ultima chance della partita all'84esimo sempre su punizione diretta questa volta da Fabri il tiro che viene respinto dunque grazie alle marcature di Scarponi e Protino il Tropical se azudica il derby sul Pietracuta con il punteggio di 2 a 1 allora io direi che possiamo prenderci l'ultima pausa della nostra trasmissione e poi tutto d'un fiato il big match di promozione Girone D quello tra Faenza e Osteria Grande la capolista del Girone E che prova a mantenersi tale il Gambettola contro il Meldola e poi un vero e proprio spareggio per accedere ai playoff nell'ultima giornata della seconda categoria Girone O quello appunto fra Villa Verrucchio e Real San Clemente insomma tutto ciò dopo gli ultimi secondi di pubblicità Sac Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia realizza impianti a GPL domestici a vicoli industriali eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente Sac Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano Sac Petroli la concessionaria Enigas GPL più dinamica d'Italia Promozione Girone D Faenza sconfitto dall'Osteria Grande col punteggio di 1 a 2 sentiamo la corsa la corsa alla miglior piazzamento nei playoff coinvolgeva l'Osteria Grande con i bolognesi rimasti a navigare in terza posizione grazie al largo successo conseguito ai danni della Libertas a Castel San Pietro prima della sosta anche il Faenza era apparso in buone condizioni assicurandosi un successo di prestigio sulla mesola anche se ormai il ritardo dalle prime cinque posizioni lo tagliava fuori dai giochi per la post-season in maniera definitiva andiamo allora a vedere come si è sviluppato un primo tempo sicuramente meno fiammeggiante del secondo con questa ottimazione proposta dalla Faenza il pallone in area di rigore da parte di Cerdadi che non riesce però a dare l'assist vincente per il proprio compagno numero due appunto della squadra Faentina in attacco ancora il Faenza al ventiduesimo con questo cross dalla sinistra e la sponda in area di rigore per il sinistro a fil di palo ci ha provato Pietro Lanzoni sul fondo la sua conclusione Osteria Grande ancora un po' sulle sue ma che pian piano prende confidenza ottimo assist qui cercato da parte di Cavini in area di rigore per questa conclusione out e poi ancora l'Osteria Grande con Cavini sicuramente uno dei migliori l'assist in area di rigore per un pallone solo sfiorato sul cross di Grazioso Cornacchia è arrivato con un leggero ritardo 0-0 al termine della prima frazione cambia subito il punteggio al secondo minuto della ripresa con questo corner che diventa vincente per il gol realizzato da Serra la deviazione in questo caso di Ravagli ha messo in gioco il numero due dell'Osteria Grande abile a trovare l'unico per Tugio per battere il portiere del Faenza un episodio che dà tanta sicurezza all'Osteria che ci prova ancora con questa conclusione da parte appunto del giocatore in maglia numero 9 Cornacchia sul fondo e poi ancora la possibilità per Osmani alta la sua battuta come detto ottima la posizione dell'Osteria Grande ma c'è la reazione del Faenza ci prova Giacomo Lanzoni punizione alta per lui ma al ventesimo la chance per il raddoppio nasce però dall'errore sulla respinta sulla battuta di Cavini c'è Ravagli che sbaglia il suo intervento questa volta Cornacchia non si fa pregare sigla il 2-0 dell'Osteria Grande che però il Faenza subito accorcia Giacomo Lanzoni con il suo sinistro sul secondo palo 1-2 riaperto dopo 5 minuti al venticinquesimo della ripresa finale all'assalto di entrambe le formazioni prima l'Osteria Grande con Cavini e poi giustamente visto che è sotto nel punteggio il Faenza a cercare la situazione per impattare sul due pari il crossa dalla destra conclusione che coglie il palo esterno quella del giovanissimo Francesco Dardi il classe 2006 qui sfiora il pareggio e poi ancora la lotta tiene vivo il pallone Ambrogetti per Bertoni entra in area non cerca l'angolo più lontano come aveva fatto il suo compagno Giacomo Lanzoni in precedenza facile la parata di Filippo Leoni ancora in attacco la sponda proprio di Dardi per la possibilità di Giacomo Lanzoni alta la sua battuta e poi siamo ormai giunti ai titoli di coda della match vittoria allora fondamentale dell'Osteria Grande in casa del Faenza col punteggio di 2 a 1 e poi dalla promozione Girone D alla capolista della Girone E Gambettola vittorioso e sempre più vicino alla possibilità di salire in eccellenza il punteggio finale contro il Meldola è di 2 a 0 il ribaltone del ribaltone l'edizione 2022 2023 della promozione Girone E verrà ricordata per come Gambettola e San Pierana si siano date battaglia nella maniera più spettacolare con la squadra di Bernacci recentemente tornata ad avere il coltello dalla parte del manico grazie ai due punti di vantaggio ritrovati sui bianconeri prima del fischio d'inizio di questo match contro il Gambettola l'occasione subito per il padrone di casa tutto fermo però per un offside e allora provarci dalla parte opposta il Meldola con questa chance Chiarini palla che però non riesce a trovare il bersaglio grosso ci prova allora il Gambettola con quest'azione la conclusione che termina sul fondo pallone che dunque poteva scatenare il vantaggio di una Gambettola che ci prova anche con questa rovesciata palla anche in questo caso imprecisa una Gambettola che ci ha provato molto nella prima frazione di gioco conclusione centrale facile la risposta del portiere del Meldola insomma una match che ancora non si sblocca ma anche se ormai il padrone è chiaro che sia il Gambettola con questo diagonale salvato sulla riga di porta un match che come dicevamo continua a proporre azioni su azioni per la squadra di Bernacci fino a questa esecuzione perfetta al 45esimo minuto Zavatta trova l'incrocio dei pali trova il gol che sblocca il match e a questo punto è il Gambettola in controllo ci può provare anche con la punizione con Rigoni palla che viene salvata da Lami in match che vede all'intervallo il Gambettola avanti per una rete a zero e intanto arrivano notizie importanti anche da altri campi con i biancoverdi che potrebbero allungare il passo ulteriormente sul San Pierana seconda in classifica e la certezza diventa tale nella ripresa ancora inaugurata da questa azione di Rigoni la risposta del portiere avversario e poi la discesa di Osaiande prova a cunearsi ormai nella difesa del Meldola la conclusione in diagonale palla sul fondo ma davvero importante la sua azione per aprire Varchi come detto nella difesa del Meldola che ne concederà uno e sarà per il gol del 2 a 0 siamo al sessantesimo minuto ancora l'intervento vincente da parte di Zavatta che vale il raddoppio della Meldola contro della Gambettola chiedo scusa contro il Meldola match che ormai sembra in cassaforte per il Gambettola che prova ancora un'azione sulla destra una discesa una possibilità per una conclusione respinta in questo caso quella di Radoi spinge ancora il Gambettola sulla corsia di destra la prediletta ancora la possibilità per Radoi sul fondo non arriva dunque il gol che sarebbe della sicurezza assoluta per i padroni di casa Meldola che prova a tenere vivo il match con questa conclusione però che diventa facile preda per Golinucci siamo ormai arrivati nei minuti conclusivi per il Gambettola il pallone per il Tris che sfuma la conclusione per quanto riguarda il Gambettola che non ha buona sorte ma il punteggio era ormai acquisito il 2-0 che lancia vicinissimo ormai la promozione il Gambettola e per chiudere come detto un autentico spareggio per entrare nei playoff nell'ultima giornata di seconda categoria Girone O con Luca Leoni scopriamo come si è concluso questo Villa Verrucchio contro Real San Clemente l'ultima giornata della Girone O di seconda categoria presenta l'incontro tra il Villa Verrucchio terza forza del campionato il Real San Clemente con i rosa nero che erano stati fermati sull'1-1 nell'ultimo turno con il Borgo Marina mentre gli ospiti sono usciti sconfitti dal confronto interno contro il Colonnella ricordiamo un campionato vinto nonché dominato in larga parte dallo Young a Sant'Arcangelo ma che ancora aveva tanti verdetti da aggiudicare andiamo dunque con le immagini siamo al primo minuto di gioco subito il Real San Clemente con questo calcio d'angolo di Lazzarini che attraversa tutta l'area nessuno a incornare a ribattere il pallone la risposta della Villa Verrucchio con Bonf il tiro di controbalzo che esce di poco alato è ancora una volta un'occasione quella di Razzarini sospetto calcio di rigore questo contatto all'undicesimo l'arbitro lascia correre mentre arriva il gol della Villa Verrucchio che si rivelerà decisivo il pallone spostato sul sinistro da Bettini grande gol dunque di Bettini che porta in vantaggio il Villa Verrucchio a tutto lo spazio per mettersela sul Mancino scaricarlo e metterlo all'incrocio dei pali questo come detto al ventunesimo la risposta del Real San Clemente non si fa attendere sette minuti dopo una buona azione un duetto per appunto Sebastiani a tu per tu con il portiere non riesce a trovare la battuta vincente si prova anche su punizione con Lazzarini al trentaseiesimo sempre il Real San Clemente la risposta del Villa Verrucchio al trentottesimo il cross di Bettini che si trasforma anche in assist a cercare Bagnani a colpo sicuro da pochi metri ma Vanni tiene in vita il San Clemente minuto 45 altra occasione con Semprini su punizione anche in questo caso fuori misura passiamo dunque con le immagini alla ripresa con il Villa Verrucchio che conduce per 1 a 0 ma un Real San Clemente che di certo non sta lì a guardare infatti siamo al settimo minuto di gioco il pallone che viene gestito sulla tre quarti una ribattuta la conclusione di prima intenzione che si stampa sulla traversa quella di Cappellini brivile dunque per il Villa Verrucchio anche un minuto dopo su punizione con Lazzarini che si prova ma non sorprende Sebastiani che devia in calcio da angolo sempre il Real San Clemente in avanti ma arriva una espulsione per questo intervento di Pioli che lascia dunque in dieci il rosa nero a questo punto con Lomo in più ci prova con ancora maggiore la vigore il Real San Clemente con Perugini ma ancora una volta Sebastiani si fa trovare attento mentre al 36esimo sempre da calcio piazzato sempre con il solito Semprini non ha la meglio un'ulteriore occasione per gli ospiti con l'autentico protagonista numero 7 Semprini che si è provato in tutti i modi a trovare la via del gol senza riuscirci poco più tardi siamo infatti nei minuti di recupero la conclusione da fuori deviata da Sebastiani e nel finale tante polemiche consitate appunto con l'arbitro che non assegna un penalty per il San Clemente arriva anche il triplice fischio un Villa Verucchio di misura e cinico batte 1-0 il Real San Clemente Young Sant'Arcangelo 62 vincitore del campionato secondo posto e finale playoff Rimini United terzo e quarto posto San Bartolo 47 Villa Verucchio 45 San Clemente dunque Real San Clemente tagliata fuori a quota 42 abbiamo visto anche come i rosa nero hanno conquistato i playoff e abbiamo esaurito il nostro tempo non mi resta altro da fare allora che salutare e ringraziare ancora una volta mister Alessandro Zauli ciao Alessandro grazie a voi e buona serata a tutti appuntamento domenica Luca saremo sempre qui con fischio finale assolutamente sì appuntamento domenica prossima e buona serata a tutti ci rivediamo domenica alle ore 19 in diretta sul canale 14 di Teleromagna ritorniamo come detto con questa nostra trasmissione noi adesso invece vi auguriamo una buona serata e un buon proseguimento con la programmazione di Teleromagna arrivederci qualità affidabilità convenienza velocità tutto in una parola si dice FAM Batterie Meddola FAM Batterie azienda leader nel settore da 45 anni soddisfa tutte le esigenze di energia alla FAM puoi trovare batterie per auto moto veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato incluso il servizio di installazione alla vanguardia anche per batterie a litio se vuoi andare sul sicuro scegli FAM Batterie perché l'energia al giusto momento fa la differenza consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza Romagna Sport primo dal 2001 la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare proprio come i professionisti i primi a pubblicare la carriera degli atleti i primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport Romagna Sport il primo sito sportivo in Romagna in tutto il primo sito Grazie a tutti